Sono i Gianni Pere che cambieranno questa società in una società più giusta. L'Italia fu liberata, la guerra finì, scoppiò il dopoguerra. La pace ci divise. Nel 46 Gianni, Antonio ed io, ognuno nella propria città, partecipammo alle incandescenti giornate del referendum, monarchia o repubblica. Gianni! Antonio! Gianni Pere, ma come stai a Roma? Ti presento la signorina Zanon Luciana, è Gianni Pere. L'amicizia non deve essere al di sopra di tutti. Niente, è al di sopra di tutto. Io sono contrario all'amicizia, è una combutta tra pochi, è una complicità antisociale. Non ha mollato i figli, io li ho dovuti lasciare, l'ho fatto per un'idea. Non è sempre l'ascusa dell'idea, è troppo comodo. Ho menata una monaca, motivi politici. E tutto questo perché? Per un futuro diverso. Il futuro è passato. E non ce ne siamo nemmeno accorti. Facciavamo con l'anime stalla, nelle tenebre lassù. Ci didn' come back... Ci vediamo al lavoro... Animo... Si non nemmeno...